Una Saugella Monza d'assalto travolge la Pumicas al Maggiore nel Monday Night della nona giornata. Le ragazze di Coach Falasca vincono 3-0, dimezzando lo svantaggio in classifica proprio dall'avversario di Erne e restando aggrappata al gruppetto di testa. Le ospiti incappano in una serata no di Raimova, 8 punti con 27 attacchi e 6 errori e soffrono la battuta delle locali, che mettono a segno 8 e iscono appena 7 errori. Ospiti con pincerato in sestetto, ma troppo follose nel primo set, Teortolani e compagni, con una gara di grande lucidità, si staccano nella fase centrale passando dall'8-6 al 17-9 e chiudendo 25-19. Un'ottima carcacias, 5 punti con un ace nella frazione, 10 alla fine top scorer Pomi, propizza una buona partenza nel secondo set, prima che Hancock si metta a bombardare dai 9 metri con 4 ace nella frazione. Si va avanti a strappi e Saugella sotto 12-15, si ritrova avanti 23-19 prima del 25-21 che vale il 2-0. Con Deve Taghe e Bianchini in campo per Monza e Sprazi di Cuttino e Marcon per Casal Maggiore, si torna in campo ma le ospiti vanno ancora sotto 15-9, entra anche Gray che con 5 punti in fila riporta le compagne a contatto, ma una super Begic al rientro da titolare meritata MVP con 12 punti e la consueta solidità di Adams consentono alle Brianzole di chiudere 25-20 regalandosi una vittoria che dà convinzione e morale.